Il Fontanaudax prosegue la ricerca di un portiere, dopo la partenza di Valizia, destinazione Fiorenzuola. Tutti gli indizi portano a Villa, la scorsa stagione al Royal Fiore, ma di proprietà del Propriacenza. Per il ruolo di difensore centrale sono tre le candidature, Livelli, Ferdenzi e Maccagni. Infine, raggiunta l'intesa tra il presidente Magnani e il Gazzola, per Nicola Bazzarini. Il prossimo anno i tre fratelli Bazzarini, Matteo, Edoardo e appunto Nicola, vestiranno la casacca bianconera. Come vi avevamo riferito ieri, al Propriacenza, confermati i pezzi da 90 a Cazzamale e Iachimoschi, è fissato per domani l'incontro per ufficializzare un altro anno in rosso-nero per Silva e Bignotti. Da valutare le posizioni di Boari e dell'ala sinistra a Cambielli. Per loro sembra essere probabile l'addio. Sono i giovani del Piacenza ad interessare tante formazioni del panorama dilettantistico. Bassi e Rossi andranno a rinforzare l'organico della Gazzanese, mentre Brigati, centrocampista classe 94, è conteso da Corte e Vigolo, che si sfidano anche per Prazzoli. Il Nibiano è invece in pole position per Cavanne e Boselli. Carmene franzese sembra invece destinato alla Via Rolese. Marseglia, dopo l'ottimo campionato con la maglia della Ponte Nurese, è tentato dall'offerta del crociato in Oceto. Sull'estremo difensore ex San Nicolò è però piombato anche il Gazzola. La Folgore, alle prese con l'incredibile ammutinamento di gran parte della Rosa, ha trovato però la nuova guida tecnica. Sarà Stefano Marazzola il tecnico dei rossoneri. Proprio alcuni ormai ex Folgore, Aristè e Bonelli, sono stati contattati dalla Pontogliese. In terza, il Bobbi 2012 ha raggiunto l'intesa con Bob Olivieri, lo scorso anno alla Gazzanese.